ciao a tutti amici di spazio e tech eccoci qui con htc one mini è vero un dispositivo che probabilmente è un po tardi per recensirlo però dato che stiamo aspettando i nuovi terminali che sono stati presentati in questi giorni a barcellona e dato che questo terminale ci aveva sempre un po incuriosito gli amici di brenovia ce l'hanno procurato e quindi eccolo qua dopo vi metteremo anche il link per poterlo acquistare direttamente da brenovia.com andiamo ad aprire la sua confezione estraiamo il terminale vi mostro il contenuto della confezione usb micro sb questo il cavo classico le cuffie le medesime di htc one qui poi manca l'alimentatore da parete non perché l'abbia perso ma semplicemente perché inserito in una presa a muro a ciucciare corrente caricando appunto un altro terminale e qui abbiamo la spilla per estrarre il carrello della micro sim mettiamo da parte la confezione e prendiamo il terminale terminale che si presenta davvero davvero bene devo dire che in questo in questi giorni in cui me lo sono portato appresso tutti quanti mi hanno detto quanto è bello questo htc one mini parliamo un attimo di dimensioni rapidamente abbiamo 132 per 63,2 per uno spessore di 9,2 mm peso molto contenuto 122 grammi una scocca unica in metallo e dobbiamo dire che è assolutamente ben realizzato niente da invidiare al fratello maggiore htc one una differenza è data da questa bordatura con una plastica che potrebbe inizialmente renderlo più cheap però io vi dico che si incastona bene nel design del terminale soprattutto rende la presa a mio avviso ancora più confortevole questo policarbonato si si fa davvero tenere bene qui sui lati bits audio giusto per indicare che è presente sia l'equalizzazione bits che le due casse boom sound fotocamera da 4 megapixel con tecnologia ultra pixel quindi praticamente la stessa tecnologia montata su htc one tasto per il volume scusate tasto accensione spegnimento stand by jack da 3.5 bilanciere del volume ingresso micro usb lato pulito se non che l'ingresso per la micro sim parliamo un po di caratteristiche tecniche prima cosa display da 4,3 pollici risoluzione hd 342 ppi di densità quindi davvero davvero elevata non raggiunge l'eccellenza del full hd ma su questa diagonale vi posso assicurare non si avverte assolutamente il bisogno di un display più definito tecnologia super lcd 3 questo significa che abbiamo un display fantastico display corning gorilla glass della fotocamera vi ho parlato vi ho messo di dire la fotocamera anteriore da 2.1 megapixel in grado di registrare anche video in 1080p vi parlo poi della parte di ricezione abbiamo hs dpa hs upa e anche lte parliamo del processore in questo caso viene fuori la natura mini di questo terminale abbiamo un qualco snapdragon 400 dual core con una frequenza da 1.4 gigahertz e una gpu adreno 305 16 gigabyte di memoria rom e un gigabyte di memoria ram batteria da 1800 mAh abbiamo la presenza dell'nfc abbiamo la presenza della no della radio fm no mi stavo per ingarbugliare abbiamo gps l'accelerometro giroscopio insomma tutte quelle caratteristiche che determinano un cellulare di fascia medio alta eccolo qua htc one mini due tasti software home e back tasto htc che non esiste è solo una scritta ci sono poi delle mode per farlo funzionare ma questo è un altro discorso allora abbiamo la sense ve la mostro vi mostro anche la versione di android informazioni software abbiamo la versione android 4.3 e la sense 5.5 parlando di fluidità di sistema vi devo dire che abbiamo un buonissimo livello di fluidità intanto già che ci sono vi mostro anche un confronto fra htc one mini e htc one devo dire che la differenza c'è ma non è abissale come dimensioni sicuramente c'è ma devo dire che anche chi sceglie htc one non fa una brutta scelta dal punto di vista dell'ergonomia vedete questo è il divario di dimensioni tra i due dispositivi fatevi voi un'idea mettiamo da parte il rosso stiamo con il silver la sense gira molto bene anche qui presente blinkfield aggregatore di contenuti con questa grafica un po in stile flip board un po in stile windows phone questo è il menu delle impostazioni sono tante vi devo dire che il terminale si muove in maniera egregia la fluidità è comparabile a un htc one con tutto il suo hardware e tutta la sua potenza se non che quando andiamo a effettuare operazioni un po più complesse in maniera un po più simultanea allora forse viene fuori il limite della ram e del processore parte telefonica non vi posso far vedere un esempio di chiamata perché non ho qui con me un una scheda sim vi mostro però il se riescono far vedere i numeri di tutti comunque un dialer completo che ci permette la possibilità di ricercare rubrica di organizzare i nostri tab una qualità telefonica ottima da questa cassa superiore l'audio è assolutamente fantastico tonalità buone e volume fin troppo alto ricezione devo dire ottima non mi ha mai lasciato a piedi e anche la ricezione del wifi è davvero di buonissimo livello quindi una parte antenne assolutamente da promuovere la chiamata in viva voce non ha problemi con questi due speaker frontale frontali è davvero ottima il display dicevamo un 4,3 pollici con risoluzione hd anche avvicinando molto l'occhio al display non si notano i pixel andiamo ad aprire una pagina web lo facciamo aprendo the verge siamo collegati in wifi ci si apre la versione mobile c'è naturalmente il tab per attivare la vista desktop in questa versione fino 4.3 è addirittura presente ancora il flash player sappiamo che però android scusate htc l'ha tolto con la 4.4 che su questo terminale ancora non so quando arriverà bene non ci ha preso la versione desktop allora la forziamo da qua richiedendo il full site l'esperienza web con questo htc one mini è davvero davvero appagante molto molto simile all'esperienza web che è in grado di restituirci htc one adesso diamo tempo alla mia velocissima connessione adsl venga maledetta infostrada nel frattempo vedete c'è l'adattamento del testo con lo zoom che è assolutamente efficace facciamo un doppio tap per adattare il testo alla colonna e questa è la fluidità devo dirvi che sotto questo aspetto ho notato davvero pochissime differenze con il fratello più muscoloso e la navigazione web per questo hardware mi è sembrata davvero davvero ottima i testi si leggono benissimo parlando di display apriamo l'applicazione display tester andiamo sulla classica schermata che ci mostra le immagini e vi devo dire che il display è una gioia per gli occhi display equilibrato i colori non sono molto saturi quindi chi è abituato a un amoled potrebbe trovarli dico un po spenti ma in realtà è solo l'abitudine dell'occhio una volta che poi si ha questo dispositivo per le mani o comunque un display lcd si apprezzano molto i bianchi si apprezza molto la temperatura del colore ben bilanciata e una luminosità che non fa mai difetto nemmeno sotto la luce diretta del sole quindi un display assolutamente da top di gamma vi mostro anche la parte ludica dato che non abbiamo fatto un apposito focus per questo terminale ricordiamo gpu adreno 305 qua abbiamo l'audio a manetta audio che non stupisce tanto per il volume nonostante il volume ci sia ve lo posso assicurare ma per la qualità e la direzione dato che abbiamo facciamo che saltiamo il tutorial se non ogni due metri mi viene detto che cosa devo fare non sia mai che mi che venga trattato come un novello dicevo continuiamo ok e soprattutto la posizione degli altoparlanti a fare la differenza sulla qualità ma vi devo dire che la gpu adreno 305 si comporta bene quella mancata in pieno però vedete giudicate voi stesso il frame rate è assolutamente adeguato ci sono alcuni giochi che non ho potuto scaricare vedi oil rush vedi asphalt 8 probabilmente perché l'hardware di questo dispositivo non lo supporta comunque i giochi che ho provato quali ritai gp o beach buggy sono assolutamente girano benissimo insomma non devo segnalare niente questo è l'hardware diverso dal classico di android si sfoglia in verticale ma questo già lo sapete caratteristica della sense vi voglio piuttosto parlare della fotocamera la fotocamera è lei insomma ve lo mostro tirando in ballo un lumia 15 20 vi faccio vedere quanto sia veloce lo scato praticamente immediato a raffica qua la possibilità di poter eliminare quando facciamo uno scatto multiplo tutti gli scatti e selezionare solo quello che ci piace c'è la possibilità di htc zoe cioè la possibilità di creare gif animate con le nostre fotografie che vanno poi a miscelarsi nella galleria che vi mostro per creare poi contenuti dinamici una galleria sicuramente ottima divisa in eventi album oppure sincronizzati con il nostro account di htc la qualità delle fotografie dico che è molto buona scusate molto buona dico che è discreta per quanto riguarda la visualizzazione sul display però come tutti sappiamo una volta che portiamo queste fotografie su un pc la bassa risoluzione si fa si fa vedere come quindi comparto fotografico fate conto come quello di un htc one stesso discorso per i video sono buoni catturano un buon audio ma non sono di certo il massimo che possiamo trovare oggi su una fotocamera barra videocamera di uno smartphone detto questo naturalmente per la condivisione rapida con i social network vanno più che bene vi voglio mostrare o meglio far sentire vediamo dove ho la galleria devo andarla a riprendere vi voglio far sentire cosa sono in grado di fare il boom sound ripeto non è tanto il volume perché in questo ultimo periodo ho sentito terminale vedessi blackberry z30 vedessi droid di droid max di motorola avere un volume alto molto più alto di questi htc ma la possibilità di avere un audio stereo e rivolto verso l'utente è davvero qualcosa di impagabile quindi cos'altro dirvi io ho trovato questo htc one mini ottimo dal punto di vista dei materiali quindi se vi devo parlare di alcuni pro ci metto innanzitutto innanzitutto la parte audio che è assolutamente di livello ci metto i materiali che sono ottimi e sento di mettere anche il display il display mi è piaciuto parlando di autonomia vi dico che anche questa è da annoverare fra i pro perché è buona ci porta a sera e con un uso non esasperato ci permette di arrivare tranquillamente intorno alle 22 23 di sera se invece vi devo parlare di qualche contro devo dire che il dispositivo se è stressato tende a scaldare in questa parte perché c'è da dire che il metallo è bello ma conduce colore calore e inoltre la fotocamera secondo me non è un gran che non pensate di potervi dimenticare la vostra compatta con questa 4 megapixel e inoltre il prezzo il prezzo secondo me è a sfavore di questo terminale perché ancora oggi non riesco bene a capire perché con poche decine di euro in più comunque possiamo prendere l'HTC One nella versione standard e come vedete le dimensioni non sono poi così più generose quindi anche chi non ama i dispositivi giganti non dovrà fare chissà che compromesso però avrà con sé un hardware decisamente migliore detto questo però c'è da dire che il terminale è valido però fatto un bilancio fra pro e contro mi sento di dare a questo dispositivo un voto di 7 ovviamente questo è il voto che mi sento di dare quindi questa è la mia opinione sull'HTC One Mini vi metteremo il link per poterlo acquistare su brenovia.com e non mi resta che aspettarvi per il prossimo video qui su YouTube sempre su Spazio Etec ciao